Stava probabilmente pulendo i vetri delle finestre quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Una tragedia che si è consumata al villaggio oriente lungo via Terlati a perdere la vita una donna di 72 anni originaria dell'est Europa ma da anni residente in città. Un drammatico volo da oltre 10 metri la donna infatti è precipitata dalla finestra al quarto piano. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza con gli operatori della Croce Bianca e l'automedica di Arezzo. È stato allertato anche l'elissoccorso Pegaso ma per la donna non c'è stato nulla da fare. A nostro arrivo la paziente comunque già sceglieva in condizioni disperate abbiamo provato a rianimarla ma non c'è stato niente da fare. Sull'episodio sta indagando la polizia di stato per chiarirà fondo i contorni della fatale caduta avvenuta attorno a mezzogiorno. La donna risiedeva all'interno dell'appartamento dal quale è precipitata assieme un 85enne che al momento della tragedia non si trovava in casa. Secondo i primi elementi raccolti dagli inquirenti si tratterebbe di una caduta accidentale.